Blogos Web Radio Favorendo la coscienza critica dei cittadini per costruire una società fondata sulla legalità Volevamo sapere da Carmela Sorella cosa ne pensava del ruolo del giornalismo di inchieste in Italia E se questa figura ha ancora un margine di libertà nel nostro paese Lei ci ha risposto così Ma che un giornalista si occupi di mafia è sicuramente un terreno minato E quindi nel momento in cui affronta questi argomenti è più esposto rispetto a chi magari segue fatti di costume o cose di questo genere Però un giornalista è esposto se segue una guerra, se si occupa di un popolo dimenticato È esposto semplicemente se racconta delle cose di cui tratta la verità E in Italia c'è nato un processo molto più profondo e molto più subdolo, molto più negativo e molto più pericoloso Che è quello della delegittimazione del giornalista Si è chiaro, i giornalisti devono fare la loro parte Perché nel momento in cui si trovano giornalisti che camminano a quattro zampe E allora non sono certo quelli che aiutano la categoria Cioè da noi oramai ci sono delle figure di giornalisti che sono appiattite sul potere E sono assolutamente pronte a una questione di prezzo rispetto a poi quello che in palio c'è, una carriera Quindi aiutare e dare espressione di solidarietà a chi sta vivendo in un momento preciso Una situazione difficile, quindi a rischio è un dovere, direi ordinario Non si può non darlo, non si può non dire non sei da solo Però non basta, non è solo quello Il problema è ritrovare una condizione in cui il giornalista non deve essere ricattato da editori impuri Che quindi non hanno come scopo quello di un mestiere che porti alla comunicazione Ma soprattutto traggono dal giornale soltanto quelli che sono vantaggi E che naturalmente devono far quadrare i conti, cosa lecita, normale Ma che deve avere anche uno scopo superiore Se no fai un'altra impresa, fai un altro lavoro Non solo, ma poi bisogna ritrovarsi in una società che effettivamente ritrovi i ruoli Noi purtroppo in questo momento stiamo avendo una grandissima confusione Per cui non si capisce bene se tu stai facendo quel mestiere Oppure sei una pistola fumante perché devi assecondare degli interessi e così via Quindi, torno a dire, la solidarietà nei confronti di chi si è esposto E per quello che dice e racconta rischia in prima persona E purtroppo è un problema di sempre legato a questo mestiere Un problema che non trova differenze di latitudine Che non trova elementi che possano renderlo più grande o più piccolo A seconda che si sia in un paese occidentale o in un paese di altra geografia E un problema invece sostanziale Le radici della nostra democrazia, il fatto che ci sia rispetto Il fatto che a un certo punto ci siano anche posizioni forti Che siano però paradossalmente normali Perché ognuno deve fare il suo lavoro E invece da noi diventa normale quando uno dice la verità Questo è un elemento terrificante Che dà un senso di disagio e di scoramento Ma che non può finire lì Deve poi comunque approdare a un discorso possibilmente condiviso Perché lo sappiamo tutti oggi Non si può andare come Don Chisciotte contro i mulini a vento Bisogna cercare di arrivare ad una democrazia partecipata Dove si restituiscono gli spazi, i ruoli e le dignità A Rita Borsellino, personalità di spicco di una Sicilia che non vuole restare a guardare Abbiamo chiesto quando e come può essere importante parlare della mafia Affinché si possa combattere questa piaga sociale La mafia vive di silenzio e vive nel silenzio Allora ogni parola che viene pronunciata è sicuramente un'arma importante per poterla sconfiggere Poi parlarne significa anche informarsi ed essere informati E per affrontare un fenomeno, per poterlo sconfiggere, per poterlo appunto affrontare Bisogna prima di tutto conoscerlo Allora più se ne parla e meglio è Più se ne parla e se ne parla con chiarezza e meglio è E' vero ci sono stati libri, ci sono stati anche giornali, programmi Che hanno sicuramente parlato e cercato di sviscerare questo problema Ma è calato negli ultimi anni, perché ormai di anni si tratta, un silenzio brutto Un silenzio quasi complice che ha cercato di far dimenticare invece Tacendo ha cercato di far dimenticare Allora è importante che i giovani con gli strumenti che oggi hanno E ne hanno tanti gli strumenti Possano veramente riuscire a farsi da sé un'opinione Trovare le informazioni giuste e poi farsi un'opinione Perché se conosceranno il fenomeno sicuramente lo rifiuteranno Perché è qualcosa di assolutamente inaccettabile Paolo diceva, quando i giovani le negheranno il consenso la mafia finirà Quindi è qualcosa che è legato strettamente all'essenza stessa della conoscenza e dell'informazione Per maggiori informazioni visitate il sito www.politicamente scorretto.org Un saluto da Giulio Ferrante